L'abusivismo Abbattimenti in modo illegale Noi ritenevamo già lunedì mattina Che quando ci siamo presentati qui Alle sette e un quarto Io sono stato chiamato Che c'erano le ruspe Già dalle cinque Che stavano demolendo le case Senza nessun tipo di preavviso Io mi sono recato qua E ho trovato uno scenario A dir poco terribile Mi sono buttato su una casa Per difenderla Dopodiché non ce l'ho fatta più Dopo quattro ore E sono sceso da questa casa Perché non ce l'abbiamo fatta più E eravamo in cinque lì sopra Per proteggerla Hanno continuato ad eseguire Abbattimenti in continuazione Dove non facevano in tempo A lasciare A distruggere una casa Che ne prendevano un'altra Distruzione prima Diciamo ad interventi E poi dopo hanno fatto Le distruzioni totali Tutto questo con un cantiere Non in sicurezza Un cantiere totalmente abusivo Non le case solo abusive Il cantiere è abusivo La ditta abusiva Adesso la politica deve intervenire Deve intervenire una volta e per tutte Ma a livello regionale Dove se la regione Ritiene che Tutte queste case sono abusive Le deve demolire tutte O tutte o nessuno Altrimenti Giuliano Basta con questi abbattimenti singolari Nove famiglie Sono state distrutte Chiediamo un incontro Con altre cari Sono state date Sono già persone Contadini Gente che lavora Lavora per 40 euro al giorno Per farsi una casa Sono stati trattati come camorristi Sono stati arrestati dalla polizia Hanno demolito le case Con due famiglie Residenti in questa palazzina E l'altra Con i bambini Non c'era un'ambulanza Non c'era rete di protezione Bambini con l'asma Abbiamo combattuto Ci hanno picchiato Come potete vedere Sia lunedì mattina Che lunedì pomeriggio Quando siamo andati a Giuliano Abbiamo fatto una manifestazione pacifica Mentre il questore E gli altri Ci hanno mandato una carica Della polizia Dove ci hanno picchiato Sia donne Che insomma Tutte le persone Con un grande atto Non so di che cosa Hanno preso di girolamo L'hanno caricato sulla camionetta E ci hanno ricattato Che se non avremmo liberato Via Agnello Palumbo Non avrebbero rilasciato di giro Il cemento deturpa l'ambiente E' perché Quello fatto con la licenza Non lo deturpa Se fanno centinaia di abitazioni Quello non è il cemento Che me l'hanno fatto La di carta Tutta questa gente Come faceva A vivere sul nostro territorio Io le tendo e non le vedo Vedo solo i rom in zona asi E adesso stanno costruendo Le case ai rom E distruggono le case Ai cittadini giuglianesi Vergogna Dovete aiutare i cittadini Il cittadino Campano va aiutato Grazie a tutti Grazie a tutti 巡mi